Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Gioco una Blitz contro un 2045, invece partita interrotta. Giochiamo un'altra partita. Eccoci qui, 2040, quindi cambia veramente poco. E4, vediamo cosa gioca Daniel King, che ha 2195 bullet, addirittura. G6, qui vabbè, si può giocare di qua tranquillamente, però voglio giocare stile attacco Grand Prix, in questa maniera, e in genere si rientra in una siciliana, se il Nero poi gioca C5, esatto, e alla fine siamo perfettamente rientrati in una siciliana. Quindi cavallo F3. Gioca C6, io giocare al filo B5, ma però mi fa cavallo D4. Mi fa cavallo D4, effettivamente. Se quello di fatto posso fare Rocco, cavallo per, cavallo per. Poi faccio poi al filo C4, però perdo un tempo. Non so se è la scelta migliore. Alternativa. Beh, se non gioco al filo C4 subito, ma sì, filo C4, dai. L'idea di al filo B5 era dare l'alfile per il cavallo, per distruggere il sottopronale, e poi passare all'attacco. E6, vuole fare D5, non può. Ok, a Rocco. Attenzione qui, perché sto pensando di fare F5 subito. P1 per, P1 per, ah, cavallo, ha messo giustamente il cavallo, prima non c'era. E quindi non va. Ok. D4, sacrificio. Attenzione, per questo gioco è poi cavallo B5. Arrocco, cavallo per D4. Potrebbe essere interessante. Vediamo questa idea. D4, semplice migliore di cavallo. Perché sto pensando anche cavallo B5 e cavallo D6. No, però cavallo B5 mi gioca lui D6. Io gioco ai 5. P1 per, P1 per, cavallo per. Non c'è niente di entusiasmante. Va bene, dai. Allora, giochiamo tranquilli. Senza grandi sacrifici. D5. Cioè, scusa, mi apre il gioco quando non ho ancora arroccato. La mossa è un po' strana. Non c'è qualche sacrificio, cavallo per, cavallo per, torre uno scacco. Non c'è niente. Altre idee. E D5 è una bella mossa. Avrei dovuto giocare al fiere B3, prevedendola, in modo tale che su D5 giocavo D5. Ha giocato, ha giocato bene. Quindi al fiere B3. Qui il problema è che il mio attacco senza il pedone centrale, quindi una volta che non ho più il vangelo del centro, è molto, molto meno forte. Viene, viene meno. Non posso più, ovviamente, spingere i pedoni G4 perché il centro è aperto. Peccato. Vabbè, quindi vediamo un po' di migliore la posizione. Allora. Questo cavallo vorrebbe andare in E4, però c'è questo per me che dà fastidio. Questo cavallo vorrebbe andare in E5. Donne 2, torre 8, donne F2. Dove, dobbiamo questa, dai. Donne F2 per provocare D4. S D4, cavallo E4. Se invece gioca B6... Pensando a qualche cavallo E5, però no, attualmente non si può fare. Cavallo G5... Cavallo G5 vorrebbe essere un'idea, in realtà. Anche se dopo H6 devo tornare indietro. Altre mosse. FILE D2, torre 1. E mi sa che optevo per questa. Devo giocare più veloce, come sempre. Non va bene spendere la metà del tempo per solo le 11 mosse. Non va affatto bene. Quindi vediamo di giocare qualche mossa lampo. Giovo al FILE D2, torre 1, su B6. Se al FILE per donna per cavallo D4... No, vabbè, donna via, non c'è niente. Dopo torre 1, voglio fare cavallo E5. E la posizione comincia ad essere interessante. Qui non può fare torre 8, almeno penso. Cosa vuole fare qui? A4 non può. Però B5 è una bella casa. Forse giocare A4 io? Per evitare B5 e fissare le bolezze B6. Oppure cavallo A4? No, non mi piace. Con la quattro non fa niente. Spero che minaccia alla fine. A4 io catturo. Ah, A4, cavallo per B5. No, 4 è C5. Ma io non vedo minacce. Giovo torre 1. Non so se mi perdo qualcosa, però attualmente non vedo minacce. In futuro A4 con lo B5 mi sembra un'idea molto interessante. Ah, minaccia al FILE per FILE per A4. Avrei dovuto vederla. Errore. Però non è la fine del mondo. Perché alfiere per, alfiere per, A4, alfiere F6, pedone per, pedone per. E poi minaccio cavallo E5. O donna H4, donna F6. Anzi, pedone per, donna H4, mi metto donna F6 e poi c'è matto. Però c'è cavallo F5, no, c'è alfiere per donna. C'è qualcosa. Ovviamente avrei voluto evitarla. Quindi molto meglio giocare A4. Però su A4 non è, cioè su alfiere per cavallo e poi A4 non è finita la partita. Posso riprenderla con un po' di trucchetti. Cioè passando un po' all'attacco. Tanto mi cattura F3. Donna per. Cavallo D4. Peccato che ci sarebbe il pennello di 5 in presa ma mi attacca la regina. Ah, ma io posso attaccare il cavallo. Donna E3, attacco il cavallo in E7, mi fa cavallo F5. Cavallo per B3. Vabbè, vabbè, qui si cattura. Ah, D4 no, c'è da noto il cavallo. Uh, no. No, non si può prendere filata. Eh, giornata no. Giornata proprio no. E qui, eh, qui ne sai poco da fare. Ah, qui si abbandona perché non vedo attacchi contro il re con regina in meno. Qua, qua è persa. Pazzesco. Incredibile. Niente, ero focalizzato sulla sua minaccia di A4 e non ho completamente pensato a alfele D4. Qui, ehm, niente, avete voluto spostare la regina. Dove? G4, G3, H3. Sì. Eh, però mi fa A4 comunque. No, no, questa volta catturo, non c'è più alfele per C3. Sì, qui semplicemente donna donna G4. Non c'è nulla. Peccato. E vabbè, niente. Capitano a tutti gli errori gravi. Ci vediamo alla prossima e vi lascio qui dei video in sovraimpressione. Ciao.